Ti stai divertendo? Sì, tantissimo! Papà, possiamo pagare il fantasma? Charlie! Io dovevo solo proteggerlo. Finché non saprò che cosa gli è successo, io non smetterò mai di cercare il mio bambino. Il premio Oscar Nicolas Cage. Pay the Ghost. Il male cammina tra noi. Domenica alle 21.20. Rai 4.